Silvia, sei pronta per questa nuova recensione delle Clifton 6? Ma papà, ti sei dimenticata la soletta! Eh vabbè dai, la prendiamo dopo! Va bene, non c'è... Buongiorno ragazzi, oggi andremo senza Silvia in pista da Andrea Soffientini a Garbagnate e parleremo delle Clifton 6. Dal peso ridotto di 255 grammi sono scarpe neutre con ammortizzazione bilanciata adatte a tutti i podisti per tutti i giorni. Per noi sono scarpe eccezionali, sono scarpe che possono essere utilizzate in diverse condizioni e parleremo con Andrea di quali modalità di utilizzo suggeriamo a voi podisti. Con la versione 6 la tomaia è più traspirante, più morbida, più sottile e soprattutto lo spazio nell'avampiede è maggiore rispetto al passato. Con il sesto modello la conchiglia è più rigida, il piede è bloccato ma soprattutto resta molto confortevole grazie all'imbottitura. Il nostro sito The Running Pit presenta foto e recensione dettagliata. Qui ci limitiamo ad iscrivere con Andrea Soffientini qual è il comportamento nella corsa. Qui ci limitiamo ad iscrivere con Andrea Soffietti. Qui ci limitiamo ad iscrivere con Andrea Soffietti. Qui ci limitiamo ad iscrivere con Andrea Soffietti. Grazie a tutti Andrea pensi di correre forte adesso? Ci proviamo Ma sono adatte queste scarpe? Non lo so vediamo Ok vai Andrea fammi un mega scatto con le Clifton 6 Io ho le Pegasus Vediamo se riesco a starti dietro Allora Andrea cosa ne pensi delle oca Clifton 6? Bah scarpa morbidissima ma adattissima per i lenti e io personalmente non le userei per allenamenti veloci In una corsa lenta per quanti chilometri? A infiniti chilometri ci farei Le sento davvero delle pantofolone Non sono pesanti al piede Mi seguono abbastanza bene Ripeto non le userei per fare un medio magari una corsa lenta in progressione A livello di Tomaia come la valuti? No no la scarpa la sento bella salda al piede la sento bella carrozzata sopra una buona scarpa E sulle ripetute che abbiamo fatto qualche secondo fa? No io non me la sento di andare forte Non mi seguono Non rispondono come vorrei Quindi le userei davvero per fare il riscaldamento e per fare le mie corse lente E sui lunghi? Guarda sui lunghi lenti secondo me è una scarpa super Ho paura che sul lungo da 35 chilometri fatto un pochino fortino svelto alla fine risultino un po' pesantucce Quindi a chi secondo te sono adatte queste scarpe? Guarda per fare i lenti le consiglierei a tutti sicuramente Ripeto se dovessi fare invece una corsa lenta svelta valuterei qualche altra scarpa Tipo le Rincon o le Mc2 in casa Oca So che abbiamo molti ascoltatori che fanno ultramaratona A loro cosa consiglieresti? Ah questa scarpa qua tutta la vita Da valutarlo un attimino perché io la sento abbastanza cedere verso l'interno Però su qualche altro podista potrebbe non avere questo problema E a livello di durata quanto secondo te possono durare? Gli esperti vedi Milani dicono 800 chilometri Mi sembra molto carrozzata Bisogna capire con l'effetto pantofola comoda se lavora fino agli 800 chilometri Però secondo me lo può fare So che tu corri sempre in asfalto o su pista In condizioni sfavorevoli cosa ne pensi? In condizioni sfavorevoli a fare i lenti va bene qualsiasi scarpa E anche queste qua secondo me faranno la loro figura Andrea quali sono secondo te le due cose positive di questa scarpa? Due ne devo dire Allora la morbidezza sicuramente E sento molto comoda la scarpa E invece qual è l'aspetto negativo? L'aspetto negativo che non mi ha convinto è stato davvero Quel senso di cedevolezza verso l'interno Quindi per i pronatori assolutamente no E sento sull'avampiede un pochino di scalino Grazie Andrea Come al solito sei stato un top Ciao Ciao Siamo tornati sulla panchina Concludendo la nostra recensione Possiamo dire che le Clifton 6 sono davvero delle ottime scarpe Ben ammortizzate E per tre ragioni le suggeriamo ai podisti amatori di tutti i livelli Da un lato hanno una maggiore durata Secondo noi durano almeno 800 km Anche per coloro i quali hanno un peso abbastanza abbondante D'altro canto la maggiore morbidezza rispetto ai modelli precedenti Offre un confort unico a chi pensa di utilizzare queste scarpe per le corse lente Infine lo spazio a disposizione nell'avampiede è migliorato E questo consente a tutti i podisti di utilizzarle per infiniti chilometri Concludiamo dicendo che dalla 1 alla 5 le Clifton hanno sempre avuto un passaggio indietro Finalmente la casa americana è riuscita a sviluppare un modello Che può essere adatto a tutti i podisti di tutti i livelli Grazie ancora Speriamo di sentirci presto E se volete commentare e avete delle domande su questa recensione Come al solito sempre qua sotto E se riuscite vi consiglio di iscrivervi al gruppo In modo tale di non perdere nessuna delle prossime recensioni Che saranno ovviamente copiose come al solito Ciao a presto Ciao a presto Grazie a tutti.